ciao da Roberto e Valentina facciamo un piccolo tour della casa in Bratislava questa è la vista dal nostro balcone niente di che niente di che palazzi cortili abbastanza rovinanti qui c'è il tavolino c'è un tavolino con due sedie andiamo dentro qui c'è la zona nostro figlio deve fare i salti dalla cucina si infatti questo è il soggiorno con monitor con tv e lampada qui c'è il divano con connessione wifi che è anche molto veloce tra l'altro di qua c'è la zona cucina molto funzionale c'è il forno il fornello un lavandino bello grande un microonde c'è addirittura una lavastoviglie che non abbiamo mai usato e questa specie di angolo andiamo se riesco ad aprirlo è abbastanza particolare perché gira gira fa un giro poi si richiude si guarda comunque qua c'è il bollitorio tostapane nostro figlio che continua ad arrampicarsi andiamo proseguiamo verso le altre stanze arriviamo qui c'è un bagno una toilette con lavandino e basta che spesso si usa così all'estero si dividere il bagno dove ci si fa la doccia della toilette e questo invece il bagno dove ci si fa la doccia senza toilette con una lavatrice quindi se si può lavare qualcosa c'è un forno c'è già fornito nel detersivo un termosifone bello grande stanza bella calda tra l'altro ovviamente il video non è contemplato esatto siamo all'estero abbiamo dimenticato questa stanza vale? guarda qui c'è una specie di stanzino tra l'altro molto comodo dove mettere le giacche e fa tipo un armadio ci sta un sacco di roba ci sono un sacco di scomparti si mettono le coperte magari è uno della televisione vecchio papà cosa? Matteo Matteo deve sempre comparire i nostri video ovvio e qui c'è la camera da letto e questa è la camera da letto che tra l'altro è enorme c'è un comodo il letto bello grande anche comodo si anche bello comodo dobbiamo dire che l'abbiamo già testato una... come si chiama? non ce la posso fare è un tavolo con la mappa del mondo che è molto carino con tanto di sedia è un po' stocco come mondo non riesco a capire è al contrario si hai visto come al contrario? si vedevo al contrario cosa è strano è al contrario e questa è la vista dal retro si vede un grattacielo altissimo che spicca tra i palazzi questo è il cortile di casa nostra dove ci sono anche tra l'altro dei giochini tipo dei camioncini il nostro figlio è vero occhiate ce ne sono più uno ce ne sono più uno vabbè c'è anche una palla tra l'altro in mezzo si c'è ancora una palla ma c'è più un altro camioncino vabbè ci vediamo presto ciao ciao ciao